questa è una pizza carnevale allora bisognava fare la musichetta pepe 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 questa è una pizza che si fa a Napoli con il gusto che fanno la ricotta e della rasagna, che allora fanno ricotta, salsiccia, pomodoro, sambarzano, pomodoro e sambarzano, poi abbiamo schiacciato a mano, poi in saltina, c'era nei menù già andiamo negli anni 40. E poi che ci metti? Sì, metti la salpiccia, una bella mozzarella di latte campana, ma noi gli mettiamo il nostro omaggio. E il basilico, poi forniamo, vai. Abbiamo una cottura di un minuto circa, a 400 gradi in 90 secondi ce la dovremmo fare, questa è quella qua, ma no, non lo fa lento. Oh, che bellezza! Sì. Allora, per uscire la pizza, un po' qua, un po' di lettino d'olio, questa è la pizza, fa l'animale, qua, questo è il signor Roberto Antonucci, ha già fatto la pizza, saluto.